Ha contestato duramente la scelta di Pierferdinando Casini, addirittura Beppe Grillo ha usato termini molto forti, meglio il blog ha usato termini molto forti, ha parlato di atto di governanza nei confronti del Paese. Ma noi fin da inizio della legislatura abbiamo contestato in realtà le scelte che vengono fatte in questo Parlamento proprio perché si continuano ad aiutare le banche, più di otto decreti e quindi è più un governo delle banche che un governo per i cittadini. La scelta di Pierferdinando Casini che è stato eletto con i voti del Partito Democratico è una scelta in totale continuità che fa capire come in realtà qui all'interno del Palazzo ci siano continui conflitti di interesse dove in realtà non si vuole fare chiarezza e trasparenza su una situazione che è stata drammatica per tantissimi risparmiatori ma bensì si vogliono continuare a tenere delle poltrone peraltro con personaggi che rappresentano il vecchio mondo politico che sicuramente non potrà cambiare la situazione. Peraltro Pierferdinando Casini ha fatto delle dichiarazioni in controtendenza con quello che in realtà poi ha fatto nei fatti quindi noi non ci aspettiamo nulla di buono. Valente, quanto ci metterete a chiedere l'audizione di Ghizzoni in Commissione? Perché poi sappiamo che su quello voi, non solo voi, punterete molto. Guardi, noi speriamo che i tempi siano brevissimi in tutto sia nelle audizioni ma anche proprio nell'avvio della Commissione di inchiesta perché sin da fine luglio proprio in conferenza di Capigruppo io ho chiesto alla Presidente Boldrini di avviare il prima possibile la Commissione e dei gruppi parlamentari anzi hanno ritardato, il PD, il Partito Democratico in primi si ha ritardato a fare i nomi quindi se si arriva a fine legislatura è perché c'è un'evidente volontà politica dei partiti di non fare chiarezza su alcuni scandali che ci sono stati in questo Paese. Ricordiamo che con l'ultimo decreto 17 miliardi per salvare alcune banche, 7,5 miliardi sono stati dati con il famoso decreto IMU Banca Italia quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di soldi pubblici dove i cittadini come al solito non vedono trasparenza vengono continuamente sottratti dei loro denari e c'è una politica che decide per gli amici degli amici e si fa comandare totalmente dalle banche e dalla finanza. Valente, la polemica nel senso che il PD dirà noi combattiamo la corruzione, noi il Movimento 5 Stelle può rinfocolarsi dal fatto che voi questo testo non lo avete votato come Forza Italia ma con motivazioni profondamente diverse. Forza Italia dice oltransista è in odore di giustizialismo, voi dite no perché? Ce lo spiega? Guardi, innanzitutto chiariamo che uno dei nostri primi punti è quello sicuramente della lotta alla corruzione. Questo testo è stato pasticciato per i motivi che in realtà in parte sono già stati anche detti dagli ospiti in studio ma soprattutto anche perché sa molto di campagna elettorale, sa molto di campagna elettorale perché le elezioni siciliane si avvicinano quindi in qualche modo si voleva dare un segnale elettorale e quindi cosa succede in questi casi? Succede che le commissioni parlamentari in brevissimo tempo devono modificare un testo di legge, devono discuterlo e quindi si arriva a dei testi normativi che creeranno sicuramente ancora più disagi a chi poi la legge la dovrà applicare sicuramente non si andrà a combattere la corruzione sicuramente non si andrà a combattere la mafia peraltro io aggiungo che spesso in questo Parlamento si fanno delle leggi votate e approvate da persone che siedono in Parlamento che spesso si trovano anche in alcune indagini che riguardano i reati mafiosi quindi quello che diciamo è una politica totalmente diversa che va completamente in diversa tendenza rispetto a quello che è stato fatto ma quello che ci vuole è una discussione sicuramente con tempi più ampi coinvolgendo soprattutto molti più esperti di questa materia Allora ricordavo le parole proprio di Cantone che ha anche sottolineato qualche settimana fa di non essere stato parte del confronto tecnico proprio su questa norma ma io volevo tornare al titolo dal quale siamo partiti, il garante e il capitano, il garante Beppe Grillo il capitano del Movimento 5 Stelle ad oggi è Luigi Di Maio Senta Valente ci sta in questa doppia definizione che abbiamo dato, abbiamo azzeccato? Ma no, io penso che Beppe Grillo rimanga il garante perché così ha sempre fatto Luigi Di Maio in questo momento è il candidato premio del Movimento 5 Stelle quindi il Movimento 5 Stelle dovrà sostenere in primis il programma elettorale che ormai stiamo sviluppando da anni e poi una persona che quel programma dovrà applicarlo insieme alla sua squadra di governo che è Luigi Di Maio su questo io devo dire che qua i gruppi parlamentari si stanno riunendo proprio per andare in un'unica direzione proprio questa settimana abbiamo fissato insieme all'altro capogruppo al Senato una riunione congiunta in cui Luigi Di Maio ha semplicemente chiarito come si vorrà muovere nei prossimi mesi ovvero di coinvolgere tutti i gruppi, dai gruppi parlamentari, regionali e consiglieri comunali perché il progetto deve essere di massima condivisione io penso che quando si antepone l'interesse collettivo a quello personale i risultati si raggiungono e quindi noi speriamo che il risultato possa essere quello di andare a governare Senta Valente ma Di Maio è capo o sarà capo o sarà capitano visto che il termine crea qualche idiosincrasia non vi piace molto se ho ben capito anche parlando con altri esponenti del Movimento sarà capitano della squadra che entrerà in Parlamento del Movimento o sarà il capitano del Movimento 5 Stelle dentro e fuori il palazzo perché è questo che dice Roberto Fico, questo abbiamo capito chiaramente le sue parole Sì a me non piace questa definizione di capitano lui sarà il candidato premier e sarà il capo politico che depositerà il programma che depositerà le liste quindi sarà responsabile di quel percorso che in questo momento sta prendendo il Movimento 5 Stelle a livello parlamentare il Movimento 5 Stelle è un contenitore molto più ampio di cui Beppe Grillo è garante quindi su questo c'è una netta divisione e non penso che si discosti molto da quello che abbiamo sempre portato avanti A proposito di legge elettorale, arriva in aula Valente il prossimo 10 di ottobre il testo base, cioè questo Rosatellum, abbiamo coniato l'ennesimo latinorum nella sostanza è una legge che è proporzionale in gran parte, sopra il 60% ha un recupero maggioritario con qualcosa che somiglia alle coalizioni poi vedremo se possiamo definirle in questo modo è una legge che si può correggere secondo lei, visto che voi siete molto critici? Questa legge per noi non si può correggere perché è un pasticcio che sicuramente verrà decretato incostituzionale quindi questo Parlamento approverà per la terza volta una legge incostituzionale, è una legge che è fatta per fermare il Movimento 5 Stelle e non permettere al Movimento 5 Stelle di arrivare al governo quindi questo dimostra che i partiti, Berlusconi e Renzi in primis si preparano all'ennesima stagione di Inciuci quindi tutto è prevedibile proprio perché questa legge elettorale non permette una governabilità, quindi quella tanto ambita da qualche partito ma creerà una situazione di stallo dove in realtà centrodestra e centrosinistra andranno di nuovo a braccetto quello che voglio dire è che ancora una volta questa legge non permette ai cittadini di scegliere i propri politici quindi se un cittadino non vuole scegliere un impresentabile non può farlo perché ci saranno di nuovo le liste bloccate ci saranno di nuovo grandi coalizioni ci saranno di nuovo i nominati con pluricandidature quindi è una legge totalmente antidemocratica e io non capisco perché in questo Paese si continui a parlare dei temi come ad esempio le preferenze da tantissimi anni ma poi la politica pensa solo a piazzare i propri uomini e creare una legge per mettere i propri uomini e avere la certezza ancora prima delle elezioni che questi vadano a sedere in Parlamento noi faremo una battaglia per fermarla questa legge anche perché i tempi sono ristrettissimi di discussione non c'è stato tempo in commissione di discutere ampiamente quindi la battaglia si sposterà sicuramente in Aula dove noi in maniera dura e decisa ci presteremo a fare una battaglia senza precedenti c'è un tema che le ha citato che è molto importante e interessante è quello della scelta dei candidati ha detto le preferenze io so che voi siete contrari ai voti segreti in Aula quindi lo metto in premessa e non sarete voi a chiederlo il voto segreto ma qualcuno lo chiederà soprattutto quelli che non hanno un grande entusiasmo per questa legge però chiederete e presenterete un emendamento per introdurre le preferenze poi vedremo come si voterà noi presenteremo un emendamento per introdurre le preferenze non chiederemo voti segreti anche perché sappiamo cosa si nasconde dietro i voti segreti una legge elettorale quella che è il famoso tedesco che è arrivata in Aula prima dell'estate è stata affossata proprio da un voto segreto dove all'interno del Partito Democratico alcuni parlamentari hanno voluto affossare quella legge quindi diciamo che la volontà di creare una legge elettorale degna di un Parlamento non c'è l'abbiamo visto quando è stato affossato il modello tedesco peraltro su una questione del Trentino non ci ricordi il fatto che le quattro forze politiche maggiori di questo paese cioè 5 Stelle, PD, Forza Italia e Lega hanno trovato un accordo politico per fare una legge che manca ed è fondamentale e è caduta per una regione del nostro paese per il Partito Democratico che ha avuto problemi al proprio interno Luigi Di Maio sul quale vorrei tornare ha detto, beh, diciamo non mi dispiace il governo di Mariano Cacoi quel modo di fare al di là del referendum catalano non sarebbe bene per il Movimento 5 Stelle visto che è una roba che non c'è in giro per il mondo rispetto anche a Podemos e altra cosa non fare paragoni, riferimenti a politici che appartengono a una storia, a una generazione a uno schieramento politico diverso Ma innanzitutto dico che il Movimento 5 Stelle non dovrebbe essere associato ad altre forze politiche come spesso si fa e come spesso ho sentito dire agli estremismi, la Lega Nord in primis dove è un partito che basa tutto sull'odio verso i migranti che peraltro ha visto recentemente essere condannato per aver rubato milioni di euro che speriamo restituisca alle casse dello Stato quindi non possiamo associarci a questi non possiamo associarci a movimenti di destra che abbiamo visto in Germania essere presenti noi vogliamo essere una forza politica che non è di destra e di sinistra senza nessuna ideologia che porta avanti semplicemente delle proposte delle proposte basate o meglio che mirano a far scegliere i cittadini con un processo che arriverà alla democrazia diretta Per questo dicevo che il riferimento a Cacoi era sbagliato perché è proprio un'altra cosa Luigi Di Maio l'ha contestualizzato ovviamente nel luogo in cui si trovava e con una connotazione ben precisa quello che voglio dire è che ad esempio sulla Spagna c'è un referendum che è un strumento di democrazia che noi ovviamente dobbiamo appoggiare per i motivi che citavo prima però detto questo crediamo molto nell'autodeterminazione dei popoli quindi lasciamo che in Spagna si faccia il corso di tutte le vicende democratiche del paese stupisce un po' che l'Europa spesso intervenga sulle repressioni che avvengono nei vari paesi ma in questo caso non ha neanche aperto bocca su questa situazione prima però Valente ha sentito lo scenario possibile che faceva Antonella Rampino cioè di un intervento sul finale della legislatura del governo per omologare le due norme uscite dalla consulta dovesse saltare l'accordo politico per motivi che magari scopriremo è uno scenario sul quale potete starci perché voglio dire quelle sono due leggi che hanno almeno la bollinatura di costituzionalità essendo uscite dalla consulta ma guardi ho imparato a stare qua dentro che tutto è possibile sicuramente è un scenario che potrebbe accadere ma che secondo me potrebbe rappresentare una sconfitta per tutto il Parlamento che non è riuscito in 5 anni di legislatura ad approvare una legge degna e voglio far notare che anche si arriva agli ultimi mesi a creare una legge elettorale questo è un palese conflitto di interessi dei parlamentari con la legge stessa perché ovviamente saranno più propensi a creare una legge elettorale che favorisca loro il rientro in Parlamento e favorisca il proprio partito piuttosto che una legge elettorale che garantisca i principi democratici del Paese allora